Un uomo venne a novellar bene. Qual verso al peregrinare umano darsi si suol per non errare in vano? Risposta l'un la trova, nell'altro superare in ardua prova. Pur un uomo venne a novellar bene, gli ultimi a comparir primi, perciò a cui più si tiene. A chi agghiotta ma non limpida opportunità rinuncia, di fame e di penuria, destio tall'un preannuncia. Pur un uomo venne a novellar bene, che il padre suo fin agli uccellini tiene, del cui diario cibo di disporre lor conviene. Dicea quel tal con la forza difendere il sopruso, ma per non subire abuso, finia per far del violo quotidian uso. Pur un uomo venne a novellar bene, amore in seno all'uomo e sì gran seme, calviolo altrui, altera gote porgersi conviene. E di fronte all'altrui ripetuto e rare, conviensi sì, settanta volte sette per donare. Ricchezza e realizzazione personale, in assoluto al centro doveasi per un tale. Eppure un uomo venne a novellar bene, cadesi al terren destio non si conviene. E che il donare la propria vita in carità riserva il cielo per l'eternità. Quel tale mise allora l'uomo in croce, per il timor del parlar della sua voce, volea così suo padre. Sì che, d'amore a novellare, si trovasse, or quel tale pria duro ad ascoltare.